Ho la trinta, rita pochino Bravo Ciao, ciao Non capisco la frizione porca troia mi sembra di averla puntata e invece ancora staccata perchè stavolta ciri eh mi sembra come se l'avessi è puntata per spingerla con la frizione e invece ce l'ha completamente finita e ritrovare quell'assimo dove ti siedi qui e gli da un'altra gazzatina in posizione